Active Abruzzo è un contenitore di esperienze, quindi promuoviamo l'Abruzzo attraverso le esperienze, esperienze che si sviluppano su tutto il territorio abruzzese, dalla montagna al mare, attraverso quello che è il nostro mood, quello che è il nostro segno di riconoscimento, c'è l'Abruzzo e la Regione Verde e quindi noi proponiamo tutte queste attività portando giù Tour Operator in Abruzzo affinché loro vivano dall'interno questa esperienza e poi la possono trasportare verso il loro catalogo, quindi trasformandoli in un'offerta di destinazione.